C'è una nota che porta alla data del 9 agosto con la quale i vertici delle fonderie Pisano hanno risposto alla diffida della regione Campania rispetto alle irregolarità segnalate nella nota ARPAC a seguito di un sopralluogo effettuato nell'azienda di Fratte lo scorso 1 luglio. Oltre ad allegare una certificazione di conformità rilasciata dalla ditta come epa reparativa a degli interventi di manutenzione effettuati, l'azienda in maniera dettagliata ha fornito elementi utili a chiarire la posizione della società rispetto alle contestazioni sollevate. Attraverso un documento che porta alla firma di Guido Pisano, le fonderie confermano di avere predisposto ed attuato tutti gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati a rimuovere le criticità segnalate, un intervento che tra l'altro si è concluso entro il termine temporale imposto di 30 giorni. Per quanto riguarda per esempio l'assenza del parametro relativo a cobalto nei campionamenti delle acque di scarico, le fonderie parlano di un errore di omissione e confermano che invece sono stati analizzati tutti i parametri previsti dall'AIA. A conferma è stata inviata la nota di segnalazione dell'omissione al laboratorio che ha provveduto a correggere l'errore. Per quanto riguarda il riferimento a fumi fuggitivi, la società ha comunicato di aver rivisto la formazione e l'istruzione per gli operatori addetti alla preparazione delle cariche del forno, dove è stato installato tra l'altro un sistema di allarme che in modo automatico interviene per richiamare l'operatore in caso di ritardo o omissione della chiusura delle paratie. Si tratta, come fa notare l'azienda, di un sistema altamente all'amaguardia con un temporizzatore che si attiva automaticamente con l'apertura delle paratie. Un inconveniente dunque che non è dovuto alla mancata applicazione delle BAT che tra l'altro sono presenti in regolamenti operative, ma come è stato spiegato nella nota, da un mero errore dell'operatore, in particolare nella fase a carico del forno che prescinde dalla presenza e dalla operatività dei presidi citati dalle BAT. La revisione della procedura e l'inserimento del dispositivo di allarme automatico descritto consentono ora di superare i potenziali errori umani nel ritardare la chiusura, avvertendo tempestivamente l'operatore e il personale di reparto dell'eventuale difformità procedurale. Insomma, con questo sistema non dovrebbero esserci più fughe di fumi. Grazie. 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 Grazie.